Armida Barelli, colei senza la quale nulla sarebbe stato possibile. Il suo chiarore illumina almeno tre grandi ambiti. La libertà di educazione, la parità di genere. Il ruolo che un ateneo debba svolgere nella società. Fidatevi del Sacro Cuore, nelle ore tristi e nelle ore liete, negli scoraggiamenti e nelle prove. Fidatevi di Lui sempre. Prendetelo con voi, questo talismano divino, questa pietra preziosa. Giornata dell'Università Cattolica, con cuore di donna. Grazie.